Ciao a tutti e a tutte, eccoci qui su Dark Soul 3 con una nuova boss fight contro Gran Bosco, la foresta maledetta, vabbè Ora, dove cazzo sono? Ok Un albero Che brutto che è Tu, muori C'è un altro tipo lì, ma questi cosi, cos'è che stanno facendo? Stanno, boh, fregando Vabbè Allora Ehi tu, muori Ah, ah Ok Dunque Come lo affronto sto coso? Ci sarà un modo Adesso lo scopriamo Vediamo Fa il pazzo questo Dunque Che cazzo Vediamo un po' Niente Perfetto Quindi c'è un punto debole che devo scoprire E che cazzo Una mezza idea ce l'ho già Su quale potrebbe essere il punto debole Però qui è pieno di stronzi, vabbè Che sta facendo? Allora Vediamo un po' come fare Che cazzo Qui no Dunque Le braccia no Ok Effettamente folle Ma pezzo di merda Forse, forse No eh Però penso di aver capito Ah, stronzo Vi è un spoiler Allora Dunque Questo stronzo Vediamo qui Ah, ok Ah, cazzo Devo colpirlo nelle palle Va bene Dunque, dunque, dunque È un bello stronzo Allora Intanto Perché è pieno di coglioni? Vabbè Oh, se bu- Merda Ora Eh, cazzo fa Ah Ha ucciso Ok Fa' il matto Fa' il matto Sto coso Allora Cioè Ci vogliono parecchi problemi Per inventare delle robe del genere Eh, comunque Porca puttana Bisogna per- Proprio essere giapponesi Allora Allora Eccolo qua Eh Gli ho fatto scoppiare le palle Ok Che sta facendo Minchia Ok Va bene Eccole qua Le altre palle E c'è un braccio C'è un Un coso che Ok È bruttissimo È una cosa orribile È veramente disgustoso Cazzo fa Oddio ma è pazzo Dunque Cos'è quello Niente Non è niente Vabbè Però Ah cazzo Adesso che ci penso Quel braccio disgustoso Potrebbe essere Un ottimo punto da attaccare Eh Che cazzo Però devo stare Molto attento Perché Se mi piglia È un casino Ok Va bene Allora Proviamo ad attaccare Il suo braccio Uh Sì Gli fa anche un bel danno Devo stare molto attento Ai frutti Faccio Faccio la manicure Una bella manicure E si risolve E si risolve tutto Porca puttana Mi sa che non ha Apprezzato il servizio Dunque Ho una fiaschetta Bene E lui È praticamente A metà vita Deve fare malissimo Dunque la mano Dov'è? Eccola qua Stronzo Puttana Oh ma Cazzo Voleva sedersi su di me Oh che cazzo È un macello Wow Maledetti boss giganti Allora Che comunque Quelli giganti Sono più facili Di quelli Diciamo Per modo di dire Ovviamente A grandezza naturale Però Questo stronzo È un bel problema Wow Sai buono E beccati No Merda Stronzo Puttana Orca troia Orca troia Allora Devo giocarmela bene Non ho più fiaschette Ed è un casino No No E qua Cosa c'è? Ops Dio che brutta mano Allora Allora Andiamo un po' Proprio una cosa al volo Al volo Eccola qua Ok Perfetto Eh ho bisogno di vita Ragazzi Allora Allora Questo qua Fa veramente Il matto Però eh Diciamo che La braccia È proprio Per la situazione Di merda Insomma Dunque È pazzo Che culo Dov'è la mano? Dov'è? Eccola qua Stronza mano Mano di Merda Proprio Stronza mano Cosa fa? Ma basta Tirare culate Qua e là Cioè Stai addosso Eh Sei bruttissimo E stai addosso E quel Coso Che ti spunta Da lì in mezzo È Veramente Raccapricciante Ma va bene Che cazzo No Merda Ok Adesso Gli devo fare Il culo Per forza Eh La braccia Non posso più Riutilizzarla Quindi Devo fargli Il culo O lui O io Però questo qua Fa veramente Il matto Ah Cazzo Ok Devo Colpiri Soltanto Quella mano Bruttissima Ok Oh È andato E Chiuderò il video qui Se vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi Al mio canale Lascerò in descrizione Tutti quanti i miei link Vi consiglio di andare A vedere Andate A vedere E Ciao a tutti Al prossimo video DAY Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.